Seconda corsa di Palermo, Poledri di due anni al Via, sono in sette dopo il ritiro del numero due Reio Cor, uno Rapace Gette, tre Regius, quattro Rockstar Cub, cinque Rondasolo, sei Rosalina Griff, sette Rigoletto Rab, otto Replica RL. I cavalli in questo momento staccano dietro la macchina, la più veloce come da previsione è Rosalina Griff che va a condurre nei confronti del numero quattro Rockstar Cub al cui esterno cerca posto in corda Rondasolo ma finisce con lo sbagliare, quindi rottura di Rondasolo numero cinque che era il terzo cavallo al gioco. Rosalina Griff può condurre liberamente nei confronti di Rockstar Cub mentre dalla seconda fila è ben filtrata la controfavorita Replica RL, si è sistemata in terza posizione precedendo Rapace Gette e Rigoletto Rab in coda Regius. I cavalli transitano davanti le tribune con la favorita Rosalina Griff a condurre abbastanza tranquillamente, Biagelo Verde la stappa come sol dirsi per farle sentire l'ambiente e darle un po' di mordente in più. Rosalina Griff guida con una lunghezza abbondante nei confronti dell'Utsider Rockstar Cub, poi Replica RL, Rapace Gette e Rigoletto Rab a completare il quartetto posto all'inseguimento della fuggitiva Rosalina Griff che sta scavando un vantaggio sempre più consistente fra sé e gli avversari. In seconda posizione resta ancora Rockstar Cub ma adesso sposta Mimo Zanca con la sua Replica RL, la richiama alla frusta per scavalcare l'avversario. Nel frattempo Rosalina Griff si è guadagnata un vantaggio tutto sommato rassicurante, viene fuori anche Rigoletto Rab e si profila terzo mentre i cavalli stanno percorrendo l'ultima curva. Di Agelo Verde tiene sveglia Rosalina Griff che dà l'impressione di tendere un po' ad addormentarsi, può però contare su un vantaggio abbastanza consistente. Si avvicina comunque Replica RL ma il traguardo ormai è abbastanza vicino, ci prova in vano Replica RL ma insomma ormai non c'è niente da fare, rischia di perdere anche il secondo ma lo tiene bene. Vince comunque la favorita Rosalina Griff numero 6 dello schieramento 1,96 la quota al totalizzatore, i colori sono quelli della Ucci, Riccitelli, SRL, il training e la guida di Biagelo Verde, seconda moneta per il numero 8 Replica RL, terzo il numero 7 Rigoletto Rab, quindi 6, 8, 7, ordine d'arrivo ufficioso della seconda corsa di Palermo.